Affondiamo le nostre radici qui, alle pendici di un vulcano e in una Sicilia definita a terra dei mandorli in fiore. Amiamo la qualità tradizionale, ma ci piace anche stupire. Entriamo nelle case di chi ricerca il gusto e il benessere. Siamo con te al lavoro quando ti serve una pausa, o nelle avventure sportive, per non lasciarti mai senza energie. A rendere uniche le nostre mandorle, è la dedizione e il cuore che mettiamo. Il mandorletto. Veri sapori dell'Etna. Grazie.